E tu, e tu, li volete mettere le vostre zauzai? A casa ne abbiamo un paio e gli abbiamo dato anche un nome, sono di compagnia. E il clima, ma che clima abbiamo? 40 gradi all'ombra d'estate. O' l'affa. Inverno, 2010. Escursioni termiche manco al Polo Nord. Però, non potremmo vivere in nessun altro posto. Ci viene, mamma, ascolta. Ci viene, mamma, guarda sul cassarbet. E calpresso insieme alla balassa. Pianura di pittori e mattici, sopra fabbriche e campanili. La foto, prendo il cielo, la foto, prendo il ferro, il cemento, la foto, ruba il sole, ruba il mare. Ancora a casa, e ancora a piatto sull'orizzo. Ancora a pioppi e bici, e nuvi, anche su questo è il pianore. Di nuovo casa. Ancora a pioppi e bici, e nuvi, anche su questo è il pianore. Ancora a pioppi e bici, e nuvi, anche su questo è il pianore. Si inserla a gici, a terra, il fame che morre, succhia sangue, succhia l'anima. Il fiume corre grande, il fiume corre grande, il vesto sull'orizzo. E' ancora caldo, e ancora a piatto sull'orizzo. E' ancora a pioppi e bici, e nuvi, anche su questo è il pianore. E' ancora caldo, e ancora a piatto sull'orizzo. E' ancora caldo, e ancora a pioppi e bici, e nuvi, anche su questo è il pianore. Per sempre casa. E' ancora caldo, e ancora a piatto sull'orizzo. E' ancora caldo, e ancora a pioppi e bici, e nuvi, anche su questo è il pianore. E' ancora caldo, e ancora a piatto sull'orizzo. E' ancora caldo, e ancora a pioppi e bici, e nuvi, anche su questo è il pianore. Per sempre casa. E' ancora caldo. E' ancora caldo, e 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 ancora caldo. E' 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 ancora caldo. Grazie a tutti.